Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che vedrà ancora alta pressione sul Mediterraneo e su Italia, ma non solo da noi. In mezzo a Europa si estende questo campo anticiclonico che blocca le perturbazioni atlantiche. Come vedete i sistemi nuvolosi rimangono ben a ovest del continente. E così per quanto riguarda le nostre regioni un po' di nuvole alia si farà anche vedere, ma si tratterà solo di nuvole alte, per il resto ampie zone di sereno e assolutamente niente precipitazioni. Quindi vediamo la mappa delle piogge, non compare neanche una macchiolina azzurra e ovviamente con un'alta pressione del genere come possiamo sperare in un po' di precipitazioni. Quindi in definitiva giornata di sole in Italia. Attenzione sola, foschie e banchi di nebbia di notte a primo mattino in pianura padane nelle valli del centro. In queste zone inizio di giornata è piuttosto grigio, ma poi sole protagonista ovunque e temperature davvero particolarmente miti per il periodo al centro-sud. Superiamo i 25 gradi, ma ci avviciniamo anche ai 28-30. Per sapere fino a quando andremo avanti così e come sarà il ponte di ogni santi, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.